Dedicato Toyota RAV4, un 10 pollici straordinario con recupero funzioni auto, adesso il cliente ha già personalizzato il display, lo sfondo, partiamo dalla radio con recupero comandi al volante, poi come al solito abbiamo gestione audio e video tramite le USB, e stessa cosa per quanto riguarda la gestione musica, potrete gestire le varie cartelle, i vari nomi, playlist, titoli, e poi andiamo avanti alla dimostrazione, via voce bluetooth, streaming musicale, processore sonoro molto importante, tutto il recupero delle funzioni originali della macchina, ricordiamo che è una macchina ibrida, qui il cliente potrà settare tutti gli option della macchina, in più avremo un'altra, guardate quante impostazioni, radar, centralizzate, luci, tutto quanto, e poi abbiamo un'altra impostazione dove andremo a gestire il veicolo, qui abbiamo tutto il check del veicolo, in più informazioni carburante e chilometraggio, informazioni pressione gomme, e poi tutta la parte della sezione ibrida, come vedete già in ricarica, per tutte le Toyota che hanno la retrocamera originale la andiamo a recuperare, oppure la possiamo inserire noi, linee guida attive, e poi andiamo avanti con maps, youtube, split screen, insomma un prodotto eccezionale, come d'altronde tutti i nostri prodotti, così dice la clientela. Abbiamo anche la gestione aria condizionata, direttamente nel display vi fa vedere le informazioni e poi all'apertura sportello vi farà anche il check. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.